Ciao bambini, guardate cosa mi ha comprato la zia che ha comprato i vestiti non cucinare. Non è bello? Guardate, è proprio di Frozen, c'è il cappello, il vestitino, c'è tutto quello che mi serve per cucinare. Guardate bambini, mi piace bambini, è bellissimo, è bellissimo bambini, è grazioso. Ora lo apriamo, ma guardate, ora lo apro tutto, guardate che bello, ora me lo indosso. Guardate, non è bello il passato? Ora vi metto il cappello. Bambini, aiutate bambini. Guardate, sembra un vero cappello. Ora mi levo tutto. Ora bambini, vi è piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!